Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana, a partire dal momento in cui la state guardando. Sto prendendo le carte. Allora, la lettura si suddividerà in tre gruppi, gruppo A, gruppo B e gruppo C. E voi sceglierete il gruppo di appartenenza più giusto per voi. Se vi piace la lettura complessiva potreste scegliere tutti e tre i gruppi oppure solo due. Seguite il vostro cuore e chiedete guida ed assistenza agli angeli e all'arcangelo Michele. Nel momento stesso in cui metterò la mano sul cuore, voi potrete chiedere guida ed assistenza, ok? Bene, iniziamo con la preghiera di protezione. Invoco la divina presenza di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio Sé superiore, gli angeli custodi e il Sé superiore di tutte le persone che con tanto amore mi seguono. Invoco te, Arcangelo Michele, Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, coscienza micaelica. E con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni, e di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze, aiutandoci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato, creando uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo luce, amore, verità, saggezza e integrità, e che tutto ciò che ho posto a Dio alla luce e all'amore si allontani da noi, ora e per sempre. Chiedo massima protezione fisica, psichica, in tutti i livelli, per me e per tutte le persone coinvolte. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie all'intera coscienza micaelica. E' fatto, e' fatto, e' fatto, e così è, e così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Ok, iniziamo con le carte dell'Arcangelo Michele, gruppo A, lascia andare la paura adesso. Gruppo B, vai avanti senza paura. Grazie. Vediamo il gruppo C, che cosa esce. Eccola qui. La tua casa è protetta dagli angeli. Ora vediamo le carte della guarigione con le fate. Aspettate che sposto il mouse. Eccola qui è caduta. Sii onesto. Aspettate, voglio vedere se si vede. Mannaggia. Sii onesto con te stesso e con te stessa. Vai avanti con fiducia. Ecco, due carte, per il gruppo B, due carte da due mazzi diversi che portano lo stesso messaggio. Vai avanti senza paura, vai avanti con fiducia. Quindi questo è un doppio messaggio con lo stesso, la stessa indicazione. Quindi vuole dire assolutamente fiducia totale, anime infinite. Lascia che sia per il gruppo C, va bene? Ora vediamo le carte degli angeli. Gruppo A, radica te stesso, radica te stessa. Radicamento fondamentale, anima infinita. Gioca, gioca un po' alla vita. Beh, credo che questa lettura sia molto chiara, molto precisa. Quindi messaggi, relazioni. Vediamo un po', relazioni per il gruppo C. Allora, vediamo un po', anime infinite. Lascia andare la paura per il gruppo A. È venuto il momento di dare fiducia a Dio, all'amore, alla creazione. Uscire dalla paura, uscire dall'ego. Uscire da tutto ciò che ti sta attormentando, da tutto ciò che ti sta impedendo di sentirti radicata, centrata e in perfetto equilibrio e l'armonia con te stessa e con gli altri. Hai veramente bisogno di affidarti completamente all'amore divino e all'Arcangelo Michele. L'Arcangelo Michele è qui per guidarti, è qui per sostenerti, è qui per aiutarti, ma devi fare un atto di fede, un atto di fiducia. È anche importante, dicono gli angeli, allineare i pensieri, le parole, le azioni e le intenzioni. Si onesto con te stesso e con te stessa. Questa carta sta a significare che veramente alle volte sei un po' nell'ego, poi torni nel cuore, c'è questa altalena tra l'amore e l'ego. è molto importante che tu sii onesto e onesta con te stessa, che chiarisci nel tuo cuore cosa vuoi veramente e che agisci di conseguenza, senza rimandare, senza sfiducia, senza paura. Veramente devi riprendere in mano la tua vita, è un atto di coraggio, un atto di fede e di fiducia nei confronti di Dio degli angeli e dell'arcangelo Michele. Diciamo che tu vorresti manifestare tutto velocemente, tutto è subito, ma per fare questo c'è bisogno di radicamento, dicono gli angeli. Radica a te stesso, radica a te stessa, perché se no rischi di creare situazioni caottiche nel tuo lavoro, nelle tue relazioni, nella tua famiglia. Va bene? Ok, come radicarti? Io consiglio la preghiera, la meditazione di radicamento che ho messo a disposizione gratuita, diciamo su YouTube, basta andare nella playlist delle preghiere e delle meditazioni. Tutte le mie meditazioni, anche se sono diverse nelle tematiche, però rappresentano il radicamento dell'energia, fino al centro della madre terra. Questa è un'abitudine giornaliera che dovresti prendere. Alle volte, in alcuni casi, anche più volte al giorno, questo ti serve per rimanere più centrata, più radicata, uscire dai pensieri negativi, da questo stato di caos che ti può condizionare nella tua bellissima vita. Passiamo al gruppo B. Vai avanti senza paura. Assolutamente, che sia vai avanti senza paura, che vai avanti con fiducia, è segno che devi agire, che questa è la direzione che hai scelto, è quella giusta, che quello che tu stavi pensando, essere la direzione giusta, appunto, ti confermano che assolutamente sei nella direzione dell'amore, dell'anima, vai avanti senza paura, e non fermarti, non guardarti indietro, lascia perdere il giudizio degli altri, lascia perdere i pensieri degli altri, i condizionamenti, i sistemi di credenza degli altri, non ti devono appartenere. Tu sei un'anima infinita, sei forte, sei coraggiosa, sei determinata, sei determinato, quindi è venuto il momento ora di fare il salto, va bene, goditi il viaggio, divertiti, quindi gioca la vita, prenditi anche del tempo per meditare, per fare dello sport, andare a fare delle passeggiate nella natura, piuttosto che fare una passeggiata in bicicletta, insomma, hai bisogno di ballare, danzare, cantare, divertirti, enjoy yourself, dicono gli angeli, veramente hai proprio bisogno di godere un po' della vita, va bene, perché tutto quello che stai facendo è nella direzione giusta, benissimo, gruppo C anime infinite, assolutamente le tue preghiere sono ascoltate, anime infinita, la tua casa, i tuoi cari, siete al sicuro e siete protetti, quando tu chiedi all'arcangelo Michele giornalmente di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità per proteggere te, i tuoi cari, la tua casa, la tua famiglia, le preghiere automaticamente sono ascoltate, quindi stai tranquilla, stai tranquillo, devi uscire dalla paura, devi uscire da questi pensieri negativi, non preoccuparti troppo per i tuoi cari o per la tua famiglia, cerca anche di concentrarti un po' su te stesso, su te stessa, le volte i problemi ci sono, le sfide arrivano, però è anche, hai bisogno di leggerezza, lascia che tutto fluisca liberamente, lascia che, diciamo, che le tue preghiere sono davvero ascoltate, quindi lascia che tutto arrivi nelle tempistiche, nelle dinamiche più giuste per te, quando c'è la protezione, tu non devi aver paura di niente, quindi continua a chiedere la protezione e lascia che Dio, l'amore e l'universo agiscano di conseguenza. Qua c'è un consiglio per quanto riguarda le relazioni, ok? Relazioni armoniose arrivano quando tu guarisci anche la connessione con la tua anima, col tuo bambino, la tua bambina interiore. In questa situazione è necessario perdonarti e perdonare gli altri, il passato, le relazioni del passato, non rovinare il presente, non rovinare il futuro, non rovinare quello che sta arrivando, va bene? Quindi veramente c'è bisogno di perdono e di guarigione del cuore. Quando tu stabilirai una connessione di amore con te stesso, con te stessa e con gli altri, eventi sincronici e perfetti arriveranno nella tua vita, nuove relazioni, nuove partnership, potrebbero essere di lavoro, potrebbero essere nuove opportunità, potrebbero essere nuovi agganci, persone importanti, influenti che possono aiutarti in questa situazione importante della tua vita. Quindi abbi fede e fiducia, e fiducia negli angeli, perché gli angeli sono con te, e gli angeli stanno ascoltando le tue preghiere. Bene, anime infinite, per questa settimana la lettura si è conclusa. Volevo ricordarvi che mi occupo di fare delle letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta. Mi occupo anche di facilitare il riequilibrio energetico di persona, se siete ad Alghero, a distanza, in qualsiasi parte del mondo vi troviate, in quanto queste frequenze non conoscono nel tempo e nello spazio, e sono molto potenti con la distanza, aiutano a riportare equilibrio a livello fisico, mentale, emozionale e spirituale. Se invece vuoi fare un percorso di coaching per eliminare le credenze limitanti, le paure, i traumi del passato, tutto ciò che ti sta impedendo di essere nel tuo pieno potere, essere focalizzato nella direzione dei tuoi sogni e manifestare la vita che vuoi, in quanto faccio anche dei percorsi di manifestazione con Logo Sealing, prendi in considerazione di fare un percorso a medio-lungo termine con me per raggiungere i tuoi obiettivi. Ok? Chiamami per ricevere maggiori informazioni. Se invece vuoi imparare a connetterti con gli angeli, volevo dirti che c'è ancora un posto disponibile, la classe è già formata da nove partecipanti, manca un partecipante e il corso inizierà lunedì 18 settembre alle ore 21. Un corso di sei settimane dove insegnerò tutto sulla connessione con gli angeli in una maniera protetta, sicura. È un lavoro molto potente, ma molto, molto sicuro. Ripeto, è protetto. Se invece vuoi imparare a connetterti con le nuove frequenze di luce, imparare tutto sul riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce, il corso partirà il 18 di ottobre. Mancano sei posti disponibili. Ok? Quindi per qualsiasi informazione, se vuoi lavorare con me, fammi sapere, contattami, anche senza impegno, voglio dire, per ricevere una consulenza gratuita. Io ti saluto, vi abbraccio, a presto. Ciao ragazzi, ciao ragazze. Alla prossima settimana. Grazie. 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 Grazie.